Le novità sono che siamo riusciti a far rivedere l'assegnazione dei posti che erano previsti in maniera spropositata a vantaggio nelle regioni del sud. Dopo una correzione nei parametri di riferimento ci ritroviamo ad avere il 28% di posti in più per la Lombardia, il 40% in più per il Piemonte e il 30% in più per il Veneto. Buone notizie dunque per tutti gli insegnanti del Nord. Grazie al lavoro del senatore Mario Pittoni sono stati modificati i numeri del concorso insegnanti che distribuisce i posti per regione aumentando i numeri a favore di quelle del Nord. Questo grazie alla riduzione ottenuta dal carroccio da 7,5 a 0,5 dei punti attribuiti per il massimo dei voti di laurea, insolitamente concentrato in alcune zone penalizzando i candidati del resto del territorio. Nell'ultimo concorso fatto nel secolo scorso c'era una differenza di 7,5 punti tra il minimo e il massimo della valutazione sul voto di laurea. Ora siccome ci troviamo in una situazione particolare, ci sono regioni come la Calabria che percentualmente producono 4 volte tanto laureati con il massimo dei voti rispetto alla Lombardia, abbiamo chiesto e ottenuto di comprimere la differenza del punteggio tra il minimo e il massimo a solo mezzo punto. Ma nel settore scuola il lavoro della Lega Nord non si ferma qui. Il senatore Pittoni lancia una proposta al ministro di istruzione Francesco Profumo. Beh, visto che sta ritirando il provvedimento che portava a 24 ore l'insegnamento settimanale degli insegnanti, gli chiediamo di ritirare anche il concorsone. Noi da inizio legislatura chiediamo una revisione dei meccanismi di reclutamento. E quella è la vera priorità, non il concorso. Aggiorniamo le regole, poi faremo il concorso.